Questi fiori di plastica ad appena 10 metri dal punto dello schianto della notte scorsa testimoniano meglio di ogni altra immagine la pericolosità di questo tratto di feltrina nel comune di Pederoba. Qui a perdere la vita qualche anno fa è stata una cittadina cinese e la causa è stata l'eccesso di velocità. Perché il tratto rettilineo e l'ampia visibilità ai lati danno una falsa sensazione di sicurezza mentre si spinge sul pedale. Ecco perché da tempo il sindaco Marco Turato, ma anche i suoi predecessori, hanno cercato di ottenere mezzi di dissuasione all'eccesso di velocità. Il primo impegno che ci siamo presi attraverso anche la prefettura è dell'installazione di un autovelox, ma penso che non sia la soluzione migliore. Per il sindaco all'autovelox e quindi alla repressione va sostituita una nuova concezione di viabilità che imponendo velocità adeguate risolverebbe anche l'immissione dei veicoli dal centro di Onigo. La soluzione definitiva sarebbe la realizzazione della rotatoria nell'intersezione della frazione di Onigo. Ecco, ma chi deve fare questa rotatoria? Beh, ovviamente Veneto Strade. Io mi sono già incontrato con i vertici anni fa per trovare questa soluzione. La risposta però fino ad oggi è stata positiva sulla carta, un po' meno sui finanziamenti. Ma chi dovrebbe finanziare questa opera? Ovviamente Veneto Strade, proprietaria del tratto in questione. Loro hanno dato la disponibilità per quel che riguarda la realizzazione, ma non mettendo sul tavolo i soldi necessari. E quindi dove possiamo andarli a trovare? Su PNRR? Io spero ci si possa trovare di nuovo attorno ad un tavolo e trovare una soluzione definitiva, trovando le risorse necessarie per intervenire in maniera importante in quel tratto di strada maledetto. Grazie.